Salve a tutti, noi siamo le ninfe della Tammurra e questa sera informazione ridotta, siamo diciamo il cuore delle ninfe, noi di solito non siamo abituati a suonare sulla base quindi per noi sarà una prima volta e stasera vi presentiamo un nostro inedito che è tutto dedicato alle donne tratto dal nostro ultimo lavoro discografico, il brano è Femmina come a me. Il nostro è un viaggio musicale nelle terre del sole, partiamo ovviamente dalla campagna che è la nostra terra e portiamo un po' la nostra musica e le nostre tradizioni in giro per il mondo. Questa sera siamo Sara schiavo alla voce, Serena della Monica alla fisarmonica. Il brano è un incontro che noi abbiamo fatto con gli sguardi di tutte le donne tunisine, pakistane, africane, donne che come noi vorrebbero cantare, ballare ma alla fine si alzano la mattina per vivere e quindi noi continuiamo a cantare, a portare il messaggio con i nostri tamburi per dire no alla violenza e no alla sottomissione delle donne perché noi siamo donne e siamo il motore del mondo.